La vitamina B12 aiuta a ridurre stanchezze ed affaticamento. Oggi si prende così. La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico. Oggi si prende così. La vitamina B12 aiuta il funzionamento del sistema nervoso. Oggi si prende così. La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione psicologica. Oggi si prende così. Con l'avanzare dell'età è importante integrare la vitamina B12, soprattutto dove è presente una sua carenza. Oppure in caso di problemi di assorbimento. Vitamina B12 Ipsa è ancora più facile da assumere. Grazie alla tecnologia FinTech. Si posiziona sulla lingua e si scioglie in pochi secondi. Senza bisogno di acqua. E poi ha un gradevole gusto lampone. Vitamina B12 Ipsa. Oggi si prende così. Scopri la linea completa Ipsa FinTech. Debolezza, spossatezza, ferro Ipsa. È difficile dormire? Melatonina Ipsa. Per riattivare l'energia, vitamina B Ipsa. Per il sistema immunitario, vitamina D3 Ipsa. Dalla ricerca Ipsa. Prodotto in Italia.